Ciao ragazzi, la lezione di oggi è dedicata allo studio sul rullante. Come applicare rudimenti alla lettura, cioè in questo caso non solo fine a se stessi per la tecnica ma anche legata alla musica. Ok, combinando tra loro i diddle, oltre che creare frasi musicali, diventerà un ottimo esercizio anche per il riscaldamento, il cosiddetto warm up. Questo sistema mi è stato insegnato da Tommy Camber, uno dei miei grandi maestri d'eroe. Ok, cominciamo dalla leggenda. Il paradiddle avrà un accento al valore di un quarto, l'accento ovviamente è sempre su battere la prima posizione, al valore di un quarto, e si segna con la lettera P, che vedrete poi sulle partiture. Esempio... Ok, il doppio paradiddle varrà un quarto puntato, che è un totale ovviamente di tre ottavi, e avrà due accenti e sarà scritto con la lettera D-P. Ok, il triplo paradiddle vale una nota da due quarti, avrà tre accenti e si scriverà con T-D-P. Cominciamo con l'esercizio 1, mischeremo il paradido normale col doppio. Paradido 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 dob paradido paradido par paradido 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 dok paradido do paradido do paradido paradido Fin d'ora abbiamo visto una fase meccanica, una combinazione di paradido, do pi, tri, pri, G. Non era questo l'obiettivo anche, no? Ma in realtà questo studio è dedicato, è legato alla musica, alle frasi, alle frasi musicali, perciò questo è l'obiettivo. Ad esempio l'esercizio numero uno, se io dovessi leggere la prima riga della partitura che avrete, voi leggerete, no? One, two, three, four, five, oh, baby, oh, ba, ba, ba. Ok, questo è quello che viene scritto. Ovviamente noi sappiamo che il doppio e il tripolo si fa da 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 da, perciò ba, bu, di, bu, da da, ba, da, da. Ecco la diversità, non troverete scritto le due note, ma sono scontate nella leggenda che vi ho fatto all'inizio. Ok, per esempio adesso vi farò vedere. Lenta è uno studio normale, questo ok, va bene per qualsiasi livello, perciò lo combiniamo. Esercizio uno. One, two, three, four. Ecco qui l'aspetto musicale di una frase. perciò per me era uno studio fantastico quando mi fece vedere questo tommy campbell rimasi stupito da che cosa si poteva quanto beneficio poteva dare questo tecnico prima volta l'ho visto a livello meccanico no bello veloce si può muovere sul drum set no e dopo invece ho capito che oltre a quello che diventa un ottimo come dice all'inizio un ottimo warm up un ottimo riscaldamento che fa comunque bene prima di cominciare a suonare scaldatevi con questo ma soprattutto creiamo delle frasi e la testa e la musica questa è la cosa importante e avvicinare sempre tutte le cose meccaniche a quello che è musicale è un obiettivo fondamentale per un buon musicista bene ora nella frase 2 combineremo il triplo paradido il doppio e il paradido bene adesso mischeremo l'esercizio 1 e il 2 come ho scritto scrivendo solo gli sticking sulla partitura no ok adesso faremo la frase numero 3 e combineremo paradido il doppio paradido il tempo sarà in tre quarti bene adesso faremo la frase numero 4 che sempre in tre quarti e svilupperà sempre il paradido il doppio dove sarà strano perché andrà a cavallo della battuta successiva si potrebbe usare il triplo paradido ma sarebbe veramente molto lungo perciò questo è già più che sufficiente per poter creare delle frasi interessanti come avete visto io ho voluto spiegarvi il concetto musicale legato alla musica il grande Tommy Campbell mi ha trasmesso questo questo è uno studio parziale perché sarebbe ancora un po più lungo però già a completo questo sistema è un sistema più lungo addirittura dovrebbe mettere dove esistono le altre note tutti dei doppi colpi però diventerebbe veramente complesso avanzato visto che questo studio l'abbiamo dedicato diciamo a un livello base intermedio insomma che poi può andare anche oltre ovviamente questo studio va bene anche per me non è un problema no però è proprio il motivo di questo lavoro che vi ho fatto vedere è farvi capire che tutto è possibile quello che mi fece capire Tommy Campbell c'è la musica perciò adesso tanto per andare a vedere per far vedere che questo è combinabile su tutto qualsiasi frase potrete poi svilupparle sul drum set no però inizialmente per diciamo il livello che abbiamo stabilito di fare con voi è quello di base perciò già è tanta roba è difficile fatelo pian piano no perciò per qui un pochettino più intraprendenti potremmo far vedere adesso la frase numero 5 che è i 5 quarti perché combinando questo matematicamente matematicamente ritorna ma in realtà come vi ho detto la matematica è il mezzo che ci consente di comprendere poi cosa fare in musica ok quella è la regola cioè proprio per avere un chiaro concetto come vi sto facendo vedere perciò in questo caso specifico nel 5 quarti useremo paradiddle paradiddle e doppio paradiddle ok in combinazioni diverse perciò paradiddle paradiddle doppio doppio paradiddle doppio paradiddle doppio potete anche studiarli separati che sono interessanti ecco una battuta alla volta se non l'avete mai fatto bene ragazzi questa lezione spero che vi sia stata d'aiuto come l'è stato per me tantissimo col grande tommy campbell mi fece vedere questo e mi cambiò la vita e spero che possa fare qualcosa anche voi come vedete tommy campbell lui l'applicava ovviamente a un linguaggio jazz quello nel linguaggio jazz c'era proprio veramente tutte queste tecniche perché era allora comunque linguaggio più avanzato musica soprattutto musicalmente ora questo sistema è applicabile a tutto io non l'utilizzo solo nel jazz infatti si potrà fare interpretato più gestistico invece abbiamo fatto normale come questo come ripeto potete applicarlo dove volete ma soprattutto potete creare frasi e combinazione la creatività è la base di tutto ciao ragazzi la lezione è terminata a presto grazie a tutti grazie a tutti